Ed eccoci tornati insieme dunque in questa mattinata dedicata alla speranza. Vogliamo concentrarci sulla figura un po' di riferimento di giornata, Santa Maria Maddalena, che Papa Francesco ha definito in un'udienza del 2017 nel contesto del ciclo di catechesi dedicata alla speranza, proprio come apostola di questa virtù. Questa mattina vogliamo parlarne con Don Giovanni Frisena, direttore dell'ufficio liturgico della diocesi di Foggia Bovino, che ci aiuterà un po' a capire questa caratteristica, potremmo dire così, di Santa Maria Maddalena. Nel frattempo buongiorno e bentrovato Don Giovanni, è sempre un piacere averti con noi. Buongiorno a te Leonardo, buongiorno a tutti i telespettatori, anche per me è un grande piacere. Allora, a proposito di speranza, ecco, lo abbiamo anche ascoltato quando abbiamo riassunto un po' la biografia di Santa Maria Maddalena, una peccatrice del cui peccato nel Vangelo non c'è traccia. E dunque, perché diventa questa donna peccatrice appunto una delle protagoniste di primo piano, di punta addirittura nella diffusione del Vangelo? Credo proprio che tutto dipenda da quella parola che tu hai utilizzato. Una peccatrice che è stata perdonata, ecco, di lei il Vangelo di Marco ci dice che è stata liberata da sette demoni, diciamo, quindi da una condizione di male che attanagliava tutta la sua vita. Ed è forse per questo che l'Evangelista Luca ci dice che si misi al seguito di Gesù, mettendo a sua disposizione tutti i suoi averi, ma anche a disposizione un po' del suo seguito, quindi degli apostoli, della prima comunità cristiana. Ma Maddalena è essenzialmente con lei che fa un'esperienza forte della Pasqua, della risurrezione, anzi potremmo dire che è la prima. Grazie a lei nel mondo si diffonde il messaggio che Gesù è risorto, perché la Pasqua è un avvenimento, potremmo dire, segreto, che intacca la vita di Gesù. C'è bisogno di chi lo annuncia, di chi diffonde, ecco, nel mondo questa bella notizia. Perciò la sua figura è legata essenzialmente a quel primo giorno della settimana, ricco di quella novità che ha segnato la storia del mondo. Ecco, Maddalena non è una donna di facili entusiasmi. vive di amore per Gesù, del desiderio di lui, lo ricerca, della prima che va al sepolcro, pensare che va al mattino presto, perché, ecco, vuole nuovamente incontrarlo, seppur credendo di trovarlo morto, e poi arriva lì e non lo trova. Proprio per questo è la prima anche a mettere in giro questa voce, che forse il suo corpo è stato trafugato, perché così dice quando va dagli apostoli a chiamarli, a invitarli ad andare con lì al sepolcro. Ma nonostante, ecco, questo pensiero prettamente umano, perché si ricro in un luogo di morte e non trova il corpo del Signore, Maddalena è una donna ostinata, caparbia, perché si ferma lì e si mette alla sua ricerca. Anche se la sua sofferenza, potremmo dire, la blocca un po', perché la rende un po' incapace di riconoscere Gesù, tanto che, come sappiamo, lo ascoltiamo anche nel Vangelo di oggi, di questa festa, lo scambia per un giardiniere. Tutto cambia però quando Gesù la chiama per nome, Maria. Ecco, è bello che prima di noi Dio stesso si occupa della nostra vita. Ecco, quando noi lo cerchiamo, lo desideriamo in maniera profonda, Egli ci rialza, ci chiama per nome, ci fa smettere di piangere, ci viene in qualche modo a liberarci. E perciò Gesù non si lascia in qualche modo ingabbiare da questa nuova relazione con Maria. Per questo la manda a portare un annuncio. Ecco, Santo Masolo la definisce apostola degli apostoli. È un termine un po' strano, una definizione un po' particolare per una donna, perché lei è colè che deve dare l'annuncio della risurrezione di Gesù a coloro che poi andranno nel mondo a dire che lui è risorto. Ma Papa Francesco aggiunge, non è soltanto apostola degli apostoli, come accennavi prima, è anche apostola della speranza. Cioè, ci dice che nell'ora del pianto e dell'abbandono, Gesù ci chiama per nome. Sappiamo che ogni qua volta Dio chiama per nome, compie una nuova creazione. Ecco, pensiamo alla Genesi, alla prima pagina della Bibbia. Dio disse sia la luce e la luce fu. Un po' questa scena del Vangelo si ricalca attorno a questo brano della scrittura. Potremmo dire che Gesù dice Maria e Maria è, è nuova, in maniera nuova. Dunque il suo pianto, la sua tristezza, la sua sofferenza si trasforma in gioia. E Maria, da apostola della speranza, ricorda a ciascuno di noi che anche nei luoghi di morte, nei vari sepolcri della nostra vita, il Signore viene a chiamarci per ridonarci nuovamente vita e rinnovamento. Per questo è bello chiamarla proprio con questo nome che gli ha voluto dare il Papa, apostola della speranza. E in effetti è una figura importante, straordinaria. A noi poi, che piace la liturgia, Don Giovanni, sappiamo che la giornata odierna da memoria obbligatoria è stata trasformata in festa. Voler dare un'ulteriore, come dire, un'ulteriore importanza, se mai ce ne fosse bisogno, diciamo, anche attraverso l'azione liturgica, a questa figura che Papa Francesco tiene in grande, grande considerazione. Tu hai detto degli aggettivi, io ne aggiungo altri due, ovviamente prendendoli da Papa Francesco, relativi a Maria Maddalena. Fedeltà e sana testardaggine. Ecco, sono un po' due aggettivi di cui probabilmente anche noi dovremmo appropriarci. La testardaggine, però, in maniera sana, e qui magari puoi aiutarci tu un po' a capire quale può essere la sana testardaggine e la fedeltà, che ovviamente non stiamo a spiegare. Sì, questi sono due aspetti che caratterizzano in maniera forte la relazione di Maria Maddalena con Gesù, ecco, è fedele, cioè non ha paura di recarsi in un luogo, che è un luogo apparentemente di morte, per incontrare un defunto. Non ha paura perché lei è mossa dal desiderio di Gesù. La sua vita, potremmo dire, Maria Maddalena è una delle poche che sta anche sotto la croce. Dobbiamo mai, ecco, dimenticare che gli altri apostoli se ne sono scappati. Lei, con Maria Madre di Gesù e l'altra Maria, Giovanni, restano sotto la croce. Dunque, potremmo dire un po' che la sua vita è morta con Gesù sotto la croce, proprio per questo può risorgere con lui nel luogo, ecco, della risurrezione, in quel giardino di Pasqua. E dunque la fedeltà di Maria Maddalena dice a ciascuno di noi di non aver paura della sofferenza, di non scappare dalla croce, di non aver paura di recarci al sepolcro, perché proprio chi è fedele ha la possibilità di vivere questo passaggio dalla morte alla vita insieme a Gesù. Ma poi, ecco, c'è l'altra caratteristica che tu dicevi, con un termine un po' forte, ecco, vive questa sana testardaggine, molto bella quest'altra immagine che ci consegna Papa Francesco, perché ci ricorda in qualche modo che Maria insiste nella sua ricerca del Signore, però ricercandola non si accorge che in realtà è già lì, come dicevamo prima. Insegna perciò anche a noi che bisogna avere nella fede e nella speranza testardaggine, cioè di sapere osare, di sapere andare oltre, non ci deve importare di guardare in qualche modo un'apparenza che sembra contraddire quello che invece la fede e la speranza vogliono dire accanto a noi. Lei supera ciò che l'apparenza le dice, l'apparenza di quel luogo cimiteriale le parla di morte e poi anche, ecco, di un ulteriore dramma, quello di un corpo trafugato. Eppure la fede e la speranza la muovono a credere che c'è qualcosa di più, che proprio lì c'è una persona viva che trasmette vita. Quindi la sana testardaggine forse è quella che deve caratterizzare anche di più noi cristiani nella nostra relazione con il Signore, cioè saper rompere quella crosta costituita da tanti pensieri, da tutto ciò che tante volte l'apparenza, il mondo, sembrano consegnarci per andare al di là e permettere dunque questo contatto vivificante con Gesù. Mi piace perché ci ha aiutato ad entrare nel concreto di Maria Maddalena attraverso ovviamente anche le parole di Papa Francesco, caro Don Giovanni. Allora io voglio ringraziarti, avrei dovuto farti un'altra domanda, però il tempo corre. Mi prendo questa libera licenza di chiederti davvero in 30 secondi, allora tra le tante figure che Papa Francesco ci ha indicato in preparazione al prossimo giubileo, di avere un occhio di riguardo anche per Maria Maddalena che oggi in qualche modo la Chiesa ci pone come esempio in vista appunto di questo anno santo che comincerà tra pochi mesi. Sì, esattamente, Maria ci aiuta a riflettere sulla speranza, su una speranza potremmo dire che non è semplicemente un vuoto ottimismo, tante volte crediamo che la speranza sia semplicemente sorridere di fronte ai problemi, ma la speranza invece ci rende operativi come Maria, ecco che non è ferma, non è rinchiusa nella sua casa, ma si muove, corre al sepolcro, allora potremmo dire che la speranza in qualche modo ci impegna nel mondo, ci dice che da noi dipende la possibilità di cambiarlo, quella goccia ecco nell'oceano che fa la differenza e dunque ciascuno di noi, mosso dalla speranza, può contribuire al bene di tutti. Grazie, grazie Don Giovanni per essere stato con noi, ti abbraccio davvero di cuore e speriamo di rivederci e risentirci presto, grazie, grazie mille. Grazie a voi, grazie a voi, buona festa di Santa Maria Maddalena. Grazie, grazie Don Giovanni Frisena, direttore dell'ufficio liturgico della diocesi di Foggia a Bovino, adesso ci fermiamo per la pubblicità. Grazie a voi, grazie a voi.